Buongiorno, buongiorno, ma è una gioia in questa città, guardate dove mi trovo, dove ci sono appunto i capannoni dei carri, guardate, guardate dove sono. Stamattina mi è arrivata una segnalazione, mi dicono che, mi dicono e sono venuta appunto a guardare e li ho trovati veramente, mi dicono che qua ci sono un sacco di indumenti raccolti, vestitini, guardate, proprio con le buste, guardate che c'è. Mi dicono che questi vestiti e tempi, da verificare ovviamente, sono stati raccolti dalla Proloco, Pro Termini, Proloco, hanno raccolto tutti questi vestitini, a quanto pare per dare aiuto, soccorso, quando ci fu la guerra, quando appunto ancora abbiamo la guerra, tutte le associazioni hanno raccolto vestiti e generi di prima necessità. Purtroppo ahimè non sono stati mai consegnati, sono stati abbandonati e soprattutto sono buttati fuori, 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 guardate che c'è, tutte cose, tutti i vestitini, guardate, proprio in balia tutte le intemperie, ci piove sopra, valigie, guardate che c'è, quanti vestitini sono stati raccolti così abbandonati, guardate che c'è, cose impaccate, qua c'è scritto leggings, bimba 5-6 anni, guardate, adesso sono tutte bagnate, vergogna, una maschera va a vita a mettere, una maschera, raccogliere tutte queste cose, appunto raccogliamo tutte queste cose, poi le abbandoniamo fuori, alle intemperie, così, all'acqua e al vento, va a vita, una maschera va a vita a mettere, lo dico sempre io, una maschera vi dovete mettere, intanto vado a verificare, perché a me mi arriva una segnalazione che è stata la Proloco a raccogliere, ma chiunque è stata a raccogliere questi indumenti, perché abbandonarli così fuori, quando realmente c'è gente che ha bisogno, ha bisogno, scatenate l'inferno, scatenate, raccogliete, tutta la gente appunto dona, e vi dico che i vestiti non sono stati consegnati, guardate, i vestiti sono fuori, abbandonati, tutti bagnati, guardate che vergogna, quando poi abbiamo vero famiglie bisognose, che hanno bisogno, a me mi piange il cuore, a me mi piange il cuore, guardate qua, guardate quanto ben di Dio, giubbotti, scarpe, giocattoli, guardate qua, guardate, guardate qua, pigiamini, bambini di un anno, voi non sapete quanto cose ci sono, e quanti bambini soprattutto hanno bisogno, cose nuove nuove, guardate, chi ha donato questi indumenti, lo dovete sapere, i vostri indumenti che avete donato non sono stati consegnati, guardate qua, guardate sacchi pieni pieni, quanti giubbotti, ora con sto freddo, ma pure consegnarli ai senza tetto, quante coperte servono, quanti giubbotti servono, ma dico io, ma non vi vergognate, dico io, ma non vi vergognate, guardate qua quanto scarpe, guardate quante scarpe, tutte cose bagnate, scarpe nuove nuove, guardate, io veramente, mi piange il cuore, mi piange il cuore, ma perché raccogliete, perché azionare la macchina solidale quando poi abbandonate tutto, ma perché, ma perché, ma perché, poi volevo fare notare che questo cancello è sempre aperto, giorno e notte il cancello dove appunto ci sono i capannoni dove appunto i carristi fanno i carri, il cancello è sempre aperto, qua è la terra di nessuno, la terra di nessuno, perché questo cancello è sempre aperto, giorno e notte questo cancello è aperto, mi arrivano segnalazioni, quasi, la terra di nessuno è, l'amministrazione lo sa che questo cancello è sempre aperto, ah certo, poi lasciamo in balia di tutti, chiunque la sera può entrare qui e può fare porci comodi, io veramente, io veramente, un sì di cosa, l'amministrazione non è cosa di amministrare manco un condominio, e chi ha raccolto questi indumenti si deve mettere una maschera, si deve vergognare, vergognare, perché realmente c'è gente che ha bisogno e noi i vestiti li abbandoniamo così, ma voi lo sapete quanto bisogno c'è in giro? Il territorio quanto bisogno c'è? Vero, ora mi dicono ma perché non c'è il reddito di cittadinanza? Vero, e c'è chi vive con il reddito di cittadinanza, ma pagando le bollette salate, pagando l'affitto, non hanno soldini abbastanza per comprare i vestiti ai bambini, quindi questi vestiti servivano e servono, invece qui li troviamo abbandonati, bagnati, puzzolenti, perché ormai chissà da quanto tempo questi vestiti sono stati abbandonati, quindi chiunque esso è stato a raccogliere, per poi buttarli qui, abbandonarli, vi dovete mettere una maschera, una maschera, perché realmente c'è chi ha bisogno e voi buttate le cose fuori, una maschera, detto questo, per ora non ho altro da dire, vi saluto dalla città di Termini Marese, mai una gioia, perché in questa città una gioia non ci sarà mai, troppo me ne freghismo c'è, troppo me ne freghismo, e osazio, oriù non l'ha criruto mai, buongiorno a tutti!